buongiorno buongiorno a tutti cari amici mi diceva quello cari amici vicini e lontani aspettiamo qualche secondo allora ciao fabio c'è antonio dunque questa diretta immagino non troppo lunga serve più che altro per informarvi che sto trasmettendo in diretta appunto dal profilo 2 dal profilo di riserva che mi ero creato qualche tempo fa proprio in previsione di queste bislacche da questi bislacchi banning blocchi di 30 giorni che periodicamente facebook mi regala su commissione non a caso il profilo principale creato se non erro dopo la cancellazione di un altro profilo risalente al 2009 creato nel 2015 il blocco dicevo del profilo principale e si è verificato qualche minuto dopo la realizzazione della diretta di ritorno dalla procura di imperia diretta nella quale spiegavo che cosa era successo presso il tribunale della procura di imperia ovvero il porto delle nebbie perché il porto delle nebbie perché avvengono cose veramente fantascientifiche nelle ultime settimane negli ultimi anni dal 2011 ad oggi il sottoscritto è stato bersagliato e bombardato da decine e decine di denunce da parte del di soggetti che orbitano intorno al comitato italiano per il controllo delle pseudoscienze ex comitato italiano per la verifica delle affermazioni sul paranormale creato dal massone piero angela figlio del massone di 33esimo grado che era un medico adesso non ricordo il nome padre di alberto angela entrambi divulgatori scientifici piero angela ex pianista di piano bar che è diventato divulgatore scientifico e che ha creato negli anni 80 se non erro sulla fine degli anni 80 il comitato italiano cicap conosciuto ormai tragicamente con questo acronimo comitato collegato ai servizi segreti non a caso tutte le persone che fanno stranamente carriera sono soggetti che sono iscritti o che sono operanti al massimo livello all'interno del cicap quindi questi nomi non a caso compaiono tra le parti tra virgolette lese nei procedimenti a carico di marciano e ovviamente i magistrati molto molto solerti specialmente quelli della procura d'imperia non si peritano un istante nel rinviare a giudizio il sottoscritto ora nell'ultimo nell'ultima comunicazione giudiziaria che mi è pervenuta tramite ufficiale giudiziario risultava che io ero colpevole di un delitto relativo all'articolo 582 cioè lesioni gravi e lesioni personali con l'aggravante 585 citato esclusivamente nel comunicato nella comunicazione della procura con l'aggravante articolo 585 e quindi lesioni personali con l'aggravante dell'uso di arma impropria ovviamente un comune cittadino che sa di essere innocente potrebbe anche rimanerci secco cioè potrebbe prendersi un infarto la procura se la cava se solo dopo che il sottoscritto puntando i piedi è riuscito a farsi ascoltare dal vice procuratore francesca buganè pedretti della procura d'imperia solo dopo queste insistenze da parte del sottoscritto è venuto fuori ora bisogna vedere se è vero o se è un cambiamento di in corso d'opera è venuto fuori che in questo decreto nel quale il procuratore francesco fornace chiede al gip massimo rainieri la proroga di altri sei mesi per le indagini complesse nel procedimento nelle a carico di marciano in questo dispositivo di avviso compare l'articolo sbagliato secondo la procura cioè ci scusi signor marciano qui c'è un refuso non si tratta di lesioni personali ma si tratta di diffamazione ancor fosse diffamazione c'è scritto delitto accertato si sono voluti giustificare dicendo che il delitto accertato il 6 luglio 2018 non è detto che sia stato commesso quel giorno ma che è stato accertato grazie alla denuncia della parte lesa non mi risulta essere così tant'è che comunque non ci sono parti lese del cic a sanremo perché c'è scritto accertato in data 6 luglio 2018 in sanremo quindi non è una querela che è stata sporta a sanremo semmai poteva essere accertato in imperia visto che comunque la procura ea imperia e non a sanremo quindi anche qui si sono arrampicati sugli specchi per giustificare ancor di più che sebbene si tratti di refuso anche in quel caso il sottoscritto non avrebbe un alibi perché non è detto che il reato si sia sia stato perpetrato quel giorno di lui ma viene giustificato che è stato accertato per giorno secondo la legge non funziona così perché comunque in un dispositivo del genere va citato non solo il reato correttamente quindi non con un refuso come quello ma va descritta anche la situazione specifica cioè tizio ha diffamato caio perché il giorno tal dei tali scriveva sulla piattaforma facebook cosa tra l'altro appunto impossibile perché anche in quel periodo ero stato sottoposto ad un ad una sospensione di 30 giorni che poi erano diventati 33 per la verità come gli anni di cristo ma anche il 33 che è un numero dei massoni 33 giorni di banning per cui non avevo potuto scrivere niente in quel periodo lì tantomeno vi erano contenuti altrove quindi non solo la parte lesa non è citata non solo è stato inserito un articolo che si riferiva alle lesioni personali non solo mi viene detto che non è quello ma è l'altro cioè diffamazione ma in entrambi i casi comunque il sottoscritto non può aver commesso il reato o i reati contestati dalla procura d'imperia ma qui apro una parentesi alcuni di voi hanno ricevuto una richiesta di amicizia e mi hanno scritto sull'altro profilo chiedendomi se ero io non posso rispondere perché quando avviene un una sospensione su facebook almeno per quanto mi concerne mi viene interdetta anche la funzione del messaging quindi non posso rispondere li vedo ma non posso rispondere ai vostri messaggi fino a che fino a che non scade il blocco quindi io ho fatto alcune richieste per quanto riguarda alcuni amici che ho sull'altro profilo e quindi potete tranquillamente accettare la richiesta di amicizia perché arriva da me dal profilo 2 c'è scritto anche in copertina e sulla fotografia profilo 2 vedete che c'è anche un puntino verde che differenzia il profilo 2 dal profilo 1 comunque chiuso chiusa parentesi tornando alla questione della procura proviamo ipoteticamente ad immaginare che marciano non si fosse preoccupato di recarsi in procura e di pretendere di essere ascoltato dal vice procuratore che in prima istanza si era rifiutato di ricevermi quindi a quel momento il vice procuratore buganè non si era ancora resa conto tanto meno fornace che ha firmato il decreto non si era resa conto di questo errore come dicono loro formale questo errore nel quale viene citato l'articolo 595 comma 3 codice penale anzi scusate 585 anziché il 595 comma 3 codice penale quindi era citato l'articolo relativamente alle aggravanti in relazione a un reato di lesioni personali se non fossi andato io il reato rimaneva quello e quindi il gip massimo rainieri che comunque già mi ha fatto rinviare in maniera coatta nonostante non ci fossero gli elementi per rinviarmi a giudizio mi ha fatto rinviare a giudizio e processare in un altro processo nel quale anche in quel caso ci sono di mezzo i negazionisti di stato cioè il governo pagati dal governo pagati dallo stato come federico de massis alias task force butler ed altri dicevo se io non fossi non mi fossi recato in procura a protestare rainieri avrebbe e comunque sicuramente lo farà avrebbe accolto la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari nonostante l'articolo fosse sbagliato quindi marcia no sarebbe stato rinviato magari a giudizio per lesioni personali anziché diffamazione semplicemente perché c'era un refuso e sì perché se vanno avanti le cose così è chiaro che alla procura devono imparare di nuovo a leggere e scrivere so che la buganè è passata al ruolo di magistrato di recente ha vinto un concorso pochissimo tempo fa e di bologna è nata nel 1988 e fresca fresca e quindi forse deve ancora fare un po di pratica però bisognerebbe fare attenzione a come si scrive a cosa scrivono i cancellieri e quando si firma e qui mi riferisco al dottor fornace bisognerebbe prima leggere quello che si firma perché questi sono decreti non sono fuffa e invece li fate diventare carta igienica perché un decreto del genere contenendo un errore si fatto è praticamente nullo non potete pensare di far andare avanti lo stesso un documento così con una correzione a penna scrivendo marciano ci scusi ci siamo sbagliati no non ve la cavate così innanzitutto quella domanda quella istanza di proroga può essere ci si può opporre ci si può opporre perché non ci sono i dettagli del reato per cui l'indagato non ha alcuna possibilità di difendersi e quindi qui c'è un vulnus e una mancanza grave nella compilazione del documento in secondo grado sicuramente un documento che contiene un errore così grave così madornale cioè scambiare un reato per un altro e magari fosse stato il contrario no si va a lesioni personali quindi si chiede una proroga delle indagini per delle lesioni personali che non sono state mai procurati ad alcuno tant'è che anche comunque fosse come dicevo diffamazione anche lì si tratta di invenzione come sempre e chi è la vittima la conosciamo non sappiamo chi è sarà sicuramente un altro componente della cricca di de massis vorrebbe proprio la pena creare uno schema per gli avvocati che ci difendono anche nel processo class meteo dove come parti offese c'è il fioba che operava stalking sino a quando non gli ha dato il cambio nel 2011 guarda caso proprio federico de massis e quindi operava stalking nella stessa maniera che usa adesso task force battler con gli insulti con le prese per i fondelli con le minacce più o meno velate con gli scritti periodici tutti i giorni con gli articoli diffamatori e insultanti sia nei confronti miei che quelli di mio fratello e guarda caso questo massimo della schiava geologo che opera nella bonifica delle dei siti di inquinamento quindi bonifica delle discariche è uno che grazie al cicap ha fatto carriera e grazie al cicap ha avuto le spintarelle per far sì che la denuncia che aveva sporto nei confronti miei presso la procura di firenze e che era stata archiviata potesse essere ripresa cuori cacciata fuori dal cilindro dal pm maria paola marrali nel 2013 e messo dentro insieme a class meteo e serena giacomin in un procedimento completamente diverso quindi in questo processo abbiamo tre parti lese che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra da un punto di vista dei reati che si suppone il sottoscritto e fratello abbiano commesso cosa non vera ma logicamente il rinvio a giudizio è avvenuto con quelle motivazioni lì cioè il pm marrali scrive che class meteo tv è stata diffamata da marciano perché marciano commentando un video relativamente a un mini doc di class meteo nel quale le scie luminose venivano citate come scie di condensa marciano diceva che class meteo fa disinformazione e dicendo questo in realtà diffamava class meteo ed ecco che viene messa dentro class meteo poi in quel periodo c'era una storia una storiellina ciao fabio e in questa storiellina il componente del cicap simone angioni che fa parte di scientificast insieme a massimo della schiava il sito creato da simone angioni si chiama scientificast e tra i vari redattori c'è anche massimo della schiava il fioba in quel periodo nel 2013 per giustificare per darsi ragione in relazione a ad un mio esperimento e anche di altri effettuato con dei rilevatori ad infrarosso che misuravano la temperatura delle scie chimiche queste scie chimiche risultavano più calde di quello che dovevano essere per essere scie di condensa e quindi simone angioni insieme ad un altro anche gli parte l'esa in un altro procedimento a carico di marciano sempre altro componente del cicap scrisse redasse una falsa mail dei produttori di questa flir di questa pistola a infrarossi nella quale si scrivevano delle cose che logicamente andavano a contraddire le affermazioni le asserzioni di marciano quindi fu pubblicato un articolo assai diffamante e di ridicolizzante nei confronti miei nel quale si presentava questa mail falsa creata ad hoc spacciandola per la mail di un responsabile della flir spa quando marciano evidenziò attraverso prove circostanziate usate quando marciano evidenziò attraverso prove circostanziate che simone agioni aveva realizzato un falso ecco che improvvisamente simone angioni intervistato da serena giacomin di class meteo ecco che improvvisamente pensarono bene non di farmi denunciare da simone angioni ma da serena giacomin di class meteo quindi serena giacomin insieme ai responsabili di class meteo mi denunciarono per diffamazione per averli diffamati su che cosa non c'erano gli elementi oltre a dire marciano scrive che class meteo fa disinformazione quindi presero un testo scritto in un articolo che non aveva nessun riferimento specifico alla serena giacomin lo stesso testo che poi è stato usato per condannare marciano nel procedimento ben civelli silvia ben civelli contro marciano ben civelli altro componente del cicat anche lei lavorava rai conferenze di qui e di là ha fatto carriera no giustamente essendo componente del cicat e questo testo citava la frase di un giornalista che verso la fine del 1800 definiva i giornalisti delle prostitute quindi questo testo è stato usato dal pm marrali per mettere dentro la serena giacomin dicendo marciano ha dato della prostituta serena giacomin che però non era citata e non c'erano neanche dei riferimenti anche lontani alla giacomin in questo breve commento sul nostro blog in un articolo che si riferiva a un notam quindi a un divieto di sorvolo da parte dell'ena o dell'ena che adesso non ricordo fatto sta che questo screenshot fatto da federico de massis e portato all'attenzione del pm marrali federico de massis non firmato ma anonimo cioè task force battler scrive alla procura di imperia io ho visto i file stampati che ha mandato task force battler alla marrali ora c'è un altro articolo del codice penale o di procedura adesso non ricordo bene che dice che se una denuncia una segnalazione parte da persona anonima il pubblico ministero non può eseguire una perquisizione e tantomeno eseguire un rinvio a giudizio cosa che invece è stata fatta in quel periodo lì ovviamente simone angioni per coprirsi il culo da questa falsificazione che aveva creato d'accordo con task force battler e gli altri pensò bene di costruire una nuova storia e quindi con la grande fantasia che a task force battler federico de massis che fa parte dell'associazione per israele insieme alla moglie che si chiama ciaffarini gabriella ciaffarini allora cosa faccio cosa fa de massis pubblica una pagina su facebook che è ancora presente perché facebook blocca me senza motivo però de massis può fare quello che vuole pubblica una pagina nella quale zret antonio marciano è un antisemita e scrive una lettera all'articolista al giornalista della stampa marco preve il quale già qualche anno prima aveva condotto un'indagine giornalistica sulle sulla incompatibilità del pubblico ministero paola marrali presso la procura di imperia che prima però era presso la procura di firenze la stessa procura alla quale della schiava aveva mandato una querela perché della schiava è di firenze un'indagine dicevo lo giorno il giornalista preve che aveva evidenziato l'incompatibilità della pubblico ministero paola marrali in quanto sorella di un'avvocatessa che esercitava la professione di legale presso la stessa procura allora tu non puoi essere pm nel contempo avere una sorella che fa l'avvocatessa presso la stessa procura per cui breve aveva evidenziato questa incompatibilità tra l'altro breve aveva anche marco breve aveva anche scoperto che la marrali era moglie del sindaco commercialista della società adesso non ricordo il nome dei pizzimbone fratelli in odore di mafia amici personali di berlusconi che gestivano anche la società di raccolta dei rifiuti che operava per imperia sanremo ai meri spa e questa società era stata coinvolta in una indagine da parte di un altro magistrato in relazione al fatto che la differenziata non veniva fatta cioè vetro plastica carta finivano tutti insieme al all'organico e questa indagine era stata condotta e iniziata grazie alle fotografie e filmati che aveva eseguito marciano quindi breve scoprì che il il sindaco commercialista di questa società dei pizzimbone che gestiva la e meri spa coinvolta in indagini per violazione delle norme sulla raccolta della differenziata era appunto il marito della marrali che a suo tempo poi segnalò per stalking telefonico il magistrato che conduceva questa indagine sulla meri spa e che poi nel 2013 su segnalazione anonima di federico de massis e su questa queste varie denunce raccolte un po qui un po la quella di firenze di della schiava quella della serena giacomin che su indicazione di federico de massis e task force battler invia copia di questo screenshot nel quale giornalisti prostitute si fa artatamente riferire alla e la stessa serena giacomin class meteo che viene a costituirsi parte civile nel processo successivamente proprio perché si ritiene diffamata da marciano in quanto le scie luminose come sono citate dalla marrali non sarebbero scie chimiche ma scie di condensa cioè semplice vapore acqueo quindi la marrali mette tutti insieme e poi rinvia giudizio ma quando è che li rinvia giudizio dopo che ha eseguito la perquisizione su segnalazione anonima di federico de massis e la perquisizione viene eseguita perché federico de massis e marco breve che pubblica un articolo sulla stampa dopo essere stato contattato da federico de massis marco breve ci accusa di antisemitismo allora la marrali cosa fa manda cinque poliziotti della polizia postale di imperia presieduta dall'ispettore capo ivan bracco amico di angelo nigrelli wasp che a suo tempo e a sua volta è stato prima fino a che non è morto collaboratore stretto di federico de massis e task force butler ivan bracco che poi va a testimoniare a favore di angelo nigrelli e che dice che lui non è wasp che non ci sono le prove che sia lui e bla 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 tutte queste storie qua quindi procura di imperia polizia postale di imperia guardate un po che intrecci e cicap disinformatori stalkers di stato che meravigliosi intrecci rinvia giudizio farlocchi articoli sbagliati e via discorrendo pm che non ti vogliono sentire e via discorrendo quindi tornando a marco breve marco breve pubblica un articolo sulla stampa nel quale i marciano vengono accusati di antisemitismo la pm pao maria paola marrali fa eseguire una perquisizione a casa ea scuola in cerca di materiale di propaganda antisemita fa sequestrare quattro hard disk è un computer portatile e se li tiene lì noi logicamente facciamo una richiesta al gip che non era ovviamente rainieri ma un altro facciamo una richiesta al gip affinché il materiale venga restituito e la richiesta di incidente probatorio cioè apertura dei contenuti degli hard disk e valutazione del materiale sul computer portatile sequestrato vengono appunto aperti e visionati di fronte alle parti quindi parte civile accusa difesa l'istanza dal gip viene rigettata quindi la perquisizione basata sulla necessità di trovare materiale di propaganda antisemita va a bagno perché in casa non viene trovato niente gli hard disk non possono essere visionati perché il gip ha rigettato l'istanza di incidente probatorio da parte del pm e cosa fa la marrali che tra l'altro aveva avuto una richiesta formale da parte dell'avvocato di fiducia all'epoca avvocato eugenio aluffi di essere ascoltati la marrali si rifiuta di ascoltarci e quindi in pratica il rinvio a giudizio che poi va ad eseguire doveva essere nullo perché se la parte indagata se gli indagati chiedono di essere ascoltati dal pm il pm non può rifiutarsi altrimenti il dispositivo di rinvio a giudizio è nullo allora giustamente io faccio presente all'avvocato di ufficio che abbiamo adesso guardi che noi nel 2013 tramite l'avvocato di fiducia qui presente avvocato aluffi si ricorda avvocato sì sì mi ricordo avevamo chiesto di essere interrogati ascoltati dal pubblico ministero che si rifiutò infatti lei avvocato ci disse guardi non mi vuole sentire allora perfetto andiamo a cercare il fascicolo nel quale risulta che la parte lesa chiede di essere ascoltata e che pm si rifiuta il fascicolo non c'è non c'è ovviamente perché se ci fosse se fosse rimasto il fascicolo se fosse stato redatto un fascicolo relativamente alla richiesta degli indagati di essere ascoltati il procedimento class meteo andava annullato era nullo di fatto secondo la legge cosa che invece non si può fare perché il fascicolo sulla richiesta formale su distanza di essere ascoltati da parte degli indagati non c'è cari magistrati della procura di impegno non c'è quindi marciano sono costretti a difendersi in un procedimento che sarebbe nullo perché a suo tempo chiesero di essere interrogati e tra l'altro appunto la pubblico ministero maria paola marrali ci rinviò a giudizio come dicevo nonostante la perquisizione si basasse sulla sull'assunto che sarebbe stato trovato materiale idoneo per incastrare i fratelli marciano su delle fantomatiche accuse presentate tra l'altro da persona anonima quindi anche in questo caso non poteva essere seguita la perquisizione e da da persona anonima che era appunto questo federico de massis alias task force battle la pm ci rinvia a giudizio lo stesso e mette insieme a class meteo e serena giacomini massimo della schiava che ci aveva denunciato in quel della procura di firenze ma che questa denuncia che io tra l'altro ho letto scritta veramente da cani come se fosse un bebè era stata archiviata giustamente no la marrali la tira fuori e la usa per inviare a giudizio i fratelli marciano insieme a massimo della schiava che ricordo è uno stalker che rompe le scatole fin dal 1200 fin dal 2007 e che ha smesso solo quando gli ha preso il cambio federico de massis quindi questa è la giustizia in italia ragazzi fatevene una ragione i fratelli marciano in questi anni hanno speso migliaia e migliaia migliaia decine di migliaia di euro per difendersi da accuse fasulle il sottoscritto ha già subito tre condanne di primo grado è stato costretto a scriversi gli appelli da solo perché gli avvocati non li hanno presentati anzi uno di questi che fa parte del sovrano ordine di malta uno di questi avvocati di ufficio che la c'era che c'era stato assegnato nel processo ben civelli mi scrisse in maniera molto diseducata e veramente ostile e mi disse lei prima mi paga e poi io vado in appello se non sgancia il grano io in appello non ci vado e guardi che in appello ci posso andare solo io ovviamente non è così perché per legge l'imputato al diritto di potersi iscrivere se è capace e l'appello per conto proprio cosa che appunto feci però siamo a questi livelli diritto alla difesa zero zero assoluto e poi gli avvocati d'ufficio ripeto si pagano si devono pagare perché noi non siamo nigeriani non abbiamo squartato persone e per cui non abbiamo diritto alla difesa né in primo né in secondo né in terzo grado di nessun tipo e se comunque ogni volta che ci viene assegnato un avvocato d'ufficio ce lo teniamo dobbiamo pagarlo quindi questo penso che sia chiaro oramai l'avvocato d'ufficio non bisogna confonderlo col gratuito patrocinio perché gratuito patrocinio è è cosa che compete le persone che arrivano con i barconi e fanno a pezzi le ragazze gli altri no magari quelli che spacciano droga che fanno rapine quelli sì che melano magari no però un comune cittadino italiano non ha diritto al gratuito patrocinio perché se superi gli undicimila euro o diecimila annui non puoi avere diritto alla gratuito patrocino ora io essendo residente nella stessa abitazione dove vive mio fratello che ha uno stipendio tra l'altro fermo a 15 anni grazie alle solite politiche economiche italiane ed europee logicamente superiamo i 10 mila euro e quindi non abbiamo diritto al gratuito patrocinio voi moltiplicate magari 15 avvocati per 15 processi diversi e vedete quanti soldi sono se ogni avvocato per ogni procedimento ti chiede 10 12 14 18 mila 19 mila euro fate il conto quanti soldi ci vogliono e quindi poi demassis dall'altra parte va a scrivere in giro che faccio le collette e che non le dovrei fare cosa facciamo non si sa perché certamente non abbiamo diritto alla difesa non abbiamo nessun diritto anche perché come ripeto questi processi sono stati tutti costruiti con le parti lese che sono componenti del ciclo quindi si tratta di una associazione a delinquere nella quale la magistratura fa parte integrante evidentemente perché lavora eseguendo quello che gli viene detto di fare ora se il ministero dell'interno che è stato sgammato più volte avere gli ip corrispondenti a contenuti diffamatori nei nostri confronti se il ministero dell'interno e il ministero della giustizia operano pagando soggetti stalkers che da anni non si sono più accontentati di fare solo stalkeraggio e diffamazione ma hanno iniziato lo strumento ad usare lo strumento della magistratura per farci fuori vedete voi se se ne può uscire tranquillamente anche perché adesso cominciano a fioccare sicuramente nuovi rinvi a giudizio fasulli e quindi marciano finché campa si dovrà sottostare dovrà sottostare a processi fasulli andare venire presso le procure farsi trattare come un delinquente quando delinquente non è semplicemente perché ha avuto l'ardire di parlare in italia della guerra climatica poi alcuni mi chiedono ma perché non piove non piove perché spruzzano è semplice le operazioni sono chiaramente indirizzate ad impedire le precipitazioni piovose perché come ho detto più volte la pioggia l'acqua le nubi danno fastidio alle comunicazioni radar satellite e tanto più adesso che verrà il 5g sarà ancora peggio perché 5g opera nelle nell'ambito delle microonde e le microonde con l'acqua non vanno assolutamente d'accordo quindi pioverà ancora di meno e le erorazioni saranno ancora più pesanti cosa vogliamo fare vogliamo lasciare che sia solo marciano a a protestare a tenersi lo stalker lo stalkeraggio da parte della magistratura impunita e impunibile ovviamente le mie critiche si rivolgono non tanto a non a voi che che mi seguite ma quegli pseudo attivisti dei quali potrei fare anche i nomi ma tanto loro sanno di titularlo che fanno finta di essere attivisti e fanno finta di essere contro informatori liberi ma che in realtà fateci caso non sono perseguitati né dai disinformatori anzi essi spesso vanno a scrivere sulle loro pagine e vengono trattati pari pari come amici e non diffamano i soggetti sui quali blog vanno a scrivere personaggi di fama dei quali appunto non vi faccio i nomi ma che sicuramente sapete ho già parlato che fingono di contro informare ma che in realtà non sono perseguitati né dagli stalkers né dalla magistratura quindi la cartina di torna sole è quella mettetevi bene in testa che evidentemente sulla piazza è rimasto solo marciano e marciano vuole essere fatto fuori dalla magistratura che con la complicità delle autorità più elevate quindi inutile che mi dite aspettate vai a chiedere al ministro buonafede vai a chiedere al ministero no perché questi soggetti come gli stessi magistrati che operano per questi soggetti del cicat sono pagati dallo stato e quindi tutti i vari ministeri sanno benissimo che marciano deve essere eliminato tanto più che come avete visto il profilo mi è stato bloccato non appena ho sputtanato l'ultima pagliacciata dei magistrati della procura d'imperia ed è stato usato come argomento per il blocco un post di due righe che era stato scritto tre anni fa che già non era contestabile perché non conteneva assolutamente materiale che potesse ledere le normative sul buon vivere all'interno di facebook ma comunque era un post che era stato già usato per bloccarmi altre due volte quindi vanno a riciclare i post vecchi quindi se non pubblico niente che può dare adito a facebook di bloccarmi vanno a ripescarsi qualcosa di vecchio per potermi bloccare lo stesso e non a caso sono stato bloccato anche quando pubblicai le foto della solesin viva fui bloccato subito e pochi minuti dopo la polizia giudiziaria di imperia mi telefonò per anticipare un interrogatore di garanzia quindi evidentemente questi personaggi che fanno stalkeraggio i vari troll sono in stretto contatto con le autorità giudiziarie chiaro ci sono tutte le prove del mondo ci sono gli indirizzi p ci sono le prove circostanziate ci sono i comportamenti perché è chiaro che se io di ritorno da imperia pubblico immediatamente una diretta pochi minuti dopo vengo bloccato con una scusa qualsiasi vuol dire che è partito un ordine dall'altro non ci sono altre spiegazioni ok mara diceva l'errore ci può stare non avendo davanti la reale denuncia a cui fare riferimento ci si può sbagliare di un numero tanto poi rimescolano tutto a loro favore ma certo quindi evidentemente adesso potrebbero anche benissimo trasformarlo in diffamazione però si devono inventare una parte lesa perché nel reato della delle lesioni personali la parte lesa non c'era adesso quindi in corso d'opera si devono inventare una parte lesa se vogliono mantenere attivo questo procedimento nei confronti di marciano gli è andata male perché il procedimento per lesioni personali non poteva essere mandato avanti perché palesemente io avevo mandato del materiale che provava che per quel giorno io avevo un alibi di ferro e non potevo essere in giro come dicevano loro perché c'era scritto accertato in sanremo il 6 luglio 2018 accertato non denunciato accertato quindi è chiaro che loro intendevano rinviarmi a giudizio per lesioni personali ma che a seguito delle mie rimostranze in sede della procura hanno dovuto modificare l'imputazione al volo per cavarsela e per non infognarsi perché questi più si muovono e più si infognano ovviamente perché non si basano su elementi reali ma si sa benissimo che ci stanno perseguitando la magistratura non persegue perseguita va bene basta sono andato anche oltre i tempi massimi vi saluto e mi raccomando per ora usate questo profilo fate conto che sull'altro per i prossimi 31 giorni 32 non posso pubblicare niente fate riferimento a questo e soprattutto condividete condividete perché se non condividete ora chiudo a marciano è stata fatta terra bruciata perché marciano non gli dà voce nessuno perché di marciano si deve parlare solo a livello diffamatorio tenete conto che se fosse venuta fuori una storia farlocca come quella delle lesioni personali relativamente ad azioni mai condotte da marciano sarebbe subito uscito sui giornali nazionali perché la magistratura non mira tanto a mettermi in galera ma sputtanarmi e gli ordini vengono dall'alto e magistrati che si beccano 8 10 16 mila euro al mese fare queste cose e seguono gli ordini non battono ciglio sanno benissimo che marciano non ha condotto non ha eseguito non ha commesso i reati che ci contestano tanto meno mio fratello io potrei essere anche un una testa calda ma mio fratello che cazzo c'entra perché ce l'avete messo dentro nel processo class meteo cari magistrati quindi gente inqualificabile io vi saluto un abbraccio e fate girare grazie ancora ciao a tutti